Ammò questa strada 2 piedini in alto questa c'è di brutto che appena la scarichi ti fermi uno due uno, due, tre uno, due, tre andiamo da sotto sotto vedrai la s vediamo qui un po' non doveva farla essere eeeh si devi farla in seconda eeeh figaro così devi stare in seconda per partire via decente ma la seconda è corta non devi farla in terza ma più lunga qua ho sbagliato il peso ho sbagliato il peso mi sono tirato dentro io ho visto spattibile è più facile da lì che dall'altra parte perchè arrivi più diritto non 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 Grazie a tutti.